terzo pareggio consecutivo per la nocerina che anche in terra sarda non riesce andare oltre l'ix dopo esser passate svantaggio nel primo tempo con l'Arzachena infatti termina 1-1 Arzachena che schiera Ruzzitto, Bonacquisti, Macid, Oliveira, Scalabrini, Cacorri, Congiu, Rossi, Manca, Marinari, Dorè e Mannoni risponde invece mister Cavallaro mettendo a sorpresa Castaldo Trepali, Rizzo, Morello, Saporito, Donnita, Vecchione, Donnarumma, Petito, Dammacco, il Bactawi e Umbertoni in prota a sostituire lo squalificato di Agite ma passiamo alla gara con le immagini ufficiali dell'Arzachena montate da Giuseppe Davino Gara scialba d'emozioni all'inizio bisogna aspettare l'undicesimo per un'occasione pericolosa il Bactawi servito si trova tu per tu con Ruzzitto lo stesso Franco Marocchino prova il pallonetto il pallone però si spegne oltre il fondo la risposta sterile dei padroni di casa arriva al diciannovesimo con l'ex Savoia Cacorri che spalla la porta si gira al centro dell'aria e lascia partire un tiro che però viene deviato in calcio d'angolo la gara si spegne ancora di più e bisogna aspettare il trentasettesimo minuto per un'altra azione in prota della nocerina stoppa il pallone al limite dell'aria e lascia partire un destro che però viene bloccato a terra da Ruzzitto il primo tempo sembra terminare 0 a 0 ma quando meno te lo aspetti l'Arzachena passa in vantaggio 41esimo calcio d'angolo per i locali batte Mannoni per buoni acquisti il quale la mette alle spalle di Castaldo colpendo di testa 1 a 0 dopo il gol non capita praticamente più nulla l'arbitro quindi manda le squadre a prendere un teccaldo 1 a 0 per l'Arzachena in un primo tempo davvero da dimenticare la nocerina parte spedita nel secondo tempo al quarantottesimo trova subito il pareggio in prota si libera di Gondiu e serve da Macco che sulla sinistra la mette in mezzo per il Baktaoui il quale manda in rete la palla alle spalle di Ruzzitto 1 a 1 settima rete in dieci presenze per il franco marocchino originario di Saint-Tropez prova a rispondere poi l'Arzachena dopo sei minuti Mannoni su punizione serve per la testa della corrente Cacorri che svetta più in alto di tutti ma senza inquadrare lo specchio della porta al 65esimo Buonacquisti prova la botta da fuori con la palla che però si spegne ampiamente sul fondo la gara divenne più che soporifera e bisogna aspettare la mezz'ora della ripresa per un'azione pericolosa dei Molossi che vanno vicini al vantaggio colpo di testa di Rizzo sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla di un soffio esce a lato la risposta degli smeraldini è arrivato dopo sei minuti Buonacquisti servito alla sinistra calcia con il colpa all'indietro sparando il pallone alto non accade più praticamente nulla fino al novantatresimo quando nell'ultimo minuto di recupero l'arbitro fischia tre volte un a uno che non accontenta nessuna delle due squadre con la nocerina che manca la ghiotto occasione di portarsi al meno uno dalla vissertena